La comunità straniera in Val Sugana. Uno su cinque dei residenti è minorenne. Oltre 5.000 residenti. È la popolazione straniera che, secondo l'Istituto di Statistica della provincia di Trento, era presente lo scorso anno in Val Sugana. Numeri sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente, con 3.537 stranieri presenti in alta ed i rimanenti nella comunità Val Sugana e Tesino. Nel corso dell'anno sono state cancellate dall'anagrafe dei comuni della valle 511 persone e in 780 risultano iscritti come nuovi residenti. Nei 33 municipi della Val Sugana, secondo l'Ispat del Trentino, sono stati 176 gli stranieri, di cui 135 in alta Val Sugana e Berstol, che hanno acquisito la cittadinanza italiana. La quota dei giovani è molto consistente. Il 21,6% della popolazione straniera è minorenne, in tutto 1119 persone, rispetto al 17,2% dei residenti in Trentino con nazionalità italiana. Gli anziani sono il 5,6%. Le donne sono la componente più rilevante nelle classi di età sopra i 30 anni e superano il 69% nella classe di 65 anni e oltre.